Ragazzi, a me è arrivata, ma dove è arrivata la lettera? Eh, la lettera dell'assicurazione. La lettera della mia fidanzo? Quale è la lettera dell'assicurazione? Ah, quella del militare? No, il servizio di leva è stato abolito da anni. Ma non ho detto che lettere. Sarà una M? No, ma no. Ragazzi, la lettera del ministero. Ah, a Madonna sto. E sì, infatti il ministero della lettera ordina a tutti nati dagli anni 50 agli anni 90 di ritornare a scuola per valutare il grado di istruzione degli italiani. Ma poi l'idea di ritornare a scuola, vi piace una? Oh, capite di ripeto. Io prendevo sempre due. A me perché ci piace rimanere a scuola? Dillo a due due, perché? Perché va poco, 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 va poco. E con la scuola vuol dire che ritornare a scuola vuol dire che praticamente noi sul palcoscenico... C'è un spettacolo facendo da scuola? No, no, no. E cosa si fa? No, nelle case, non è in team, nelle case, si fa in teatro. Noi porteremo una classe direttamente in teatro, con i banchi, con la lavagna, con la scrivania. E gli alunni ci stanno? Ci sono gli alunni ma verranno presi direttamente dal pubblico. Scusate. E lo spettacolo si chiama Perché con la X, scritto X che con la X, perché? X che con la X. X che con la X. E non è un nome. Si, perché si chiama acronimo. Ah, P! Se c'è se! Sì, ci hanno mai scritto così. Ma non è un nome. Ma non è un nome. 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 Lo spettacolo si chiama Perché con la X. Vi aspettiamo tutti quanti a teatro. Venite. E mi raccomando, studiate. Tiago, perché salite interrogativi? La comandazione di chiama. Sono una campanella. Sono una campanella.